E' ora di cominciare a prendere confidenza con le parole, non dico con la parola, non col verbo ma con le parole anche, ecco, invece il linguaggio vi fotte, vi trafora, vi trapassa voi non me ne accorgete, voi impugnate l'odio, applaudite l'odio, ne avete fatto una minchia di quest'odio. E' ora di cominciare a prendere confidenza con le parole, non dico 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 con le parole, non ho Grazie a tutti Grazie a tutti